E' una battaglia di solidarietà ma anche una battaglia intelligente perché credo, ritengo, questa è la linea che Fratelli d'Italia e più in generale i consigli di centrodestra hanno sempre adottato in consiglio regionale che è quella di venire incontro alle esigenze dei più deboli, dei più in difficoltà e di utilizzare bene le risorse. Questo è un caso plastico di quella che è la situazione, ho sottoscritto la mozione e naturalmente la sosterrò e la sosterremo con forza in consiglio regionale nel prossimo martedì.